Io ieri a orario alle 12.25 stavo mettendo le transenne alla scuola segna, stavo andando a mettere le altre transenne perché noi abbiamo due sotto la strada. A salire, stavo salendo e ho visto che questa macchina veniva a senso unico, ho preso la parete e ho intimato di fermarsi. Il signore si è fermato e gli ho chiesto gentilmente, scusi guardi che stanno andando a senso unico, dovrebbe andare indietro e girare sulla destra. Il signore si è fermato con la macchina, è sceso. Allora in quel momento ho pensato, mi dirà qualche parola, come al solito farò tutti. E invece mi ha incominciato a prendere pugni, calci, mi sono volato gli occhiali, sento la sala rotta e tutto. Più avanti c'era mia moglie con mio figlio andando alla macchina, che stavo rispettando l'altra piccolina. E mio figlio piccolo ha visto tutto. Tutta la gente. Non lo so. Si trovava proprio in questo punto ieri Massimo Cubisino, quando l'automobilista voleva percorrere questa strada in controsenso. Vistosi bloccato, ha posteggiato la macchina poco distante e poi ha aggredito l'ausiliario del traffico. Sono ben visibili le macchie di sangue ancora a terra. Lei ha avuto il setto nasale rotto? Sì, setto nasale, occhi gonfi, il guangiale mi hanno detto che l'ho un po' spezzato e non riesco a parlare tanto bene. Lei non capisce il perché di questa reazione? Perché fra l'altro era in controsenso lui. Sì, fino a oggi non lo capisco. Perché lui proprio stava scendendo. E ho fatto solamente il mio dovere di fermare a dirglielo perché se succede un digerente o qualcosa, la responsabilità è nostra. Che poi dicono dove eri tu? Come mai non giri? Quindi lei è un volontario? Sì, volontario dell'ausiliario del traffico. Quattro anni che facciamo servizio. Ma mai mi è successo una cosa del genere. Questo sarà sottoposto a un intervento chirurgico? Penso di sì perché mi hanno detto che ho proprio la fruttura del naso tutta scomposta. Sono venute le mamme vicino a mia moglie che gliel'hanno detto ma è stato gentilissimo al solito. Perché ormai le mamme mi conoscono tutte. I bambini quando mi vedono in giro dicono alle mamme guarda mamma c'è un poliziotto buono. Quindi non lo so il male che ho fatto io. Fino ad oggi ancora ci penso e mi viene anche da piangere. E' proprio sceso da una macchina arrabbiatissimo. Perché io gli ho chiesto gentilmente mi dica tutto. Non mi ricordo più niente. Ho preso pugni, spero, calci. Sono caduto a terra e mi prendeva calci le mamme che gridavano. Nonostante tutto non si è fermato, non ha avuto mai un attimo. Non si è fermato. Poi mi sono alzato perché mi sono messo a corre e lui mi prendeva a calci di dietro e sono caduto di nuovo. E poi per fortuna sono finalmente arrivato in macchina. Ho detto a mia moglie chiami i carabinieri, chiami i carabinieri. E vedevo che disanguavo moltissimo. E mi hanno portato in urgenza all'ospedale per il soccorso a Comis. E là mi hanno subito fatto le prime cure e tutto. Poi è venuta la polizia pure. Mi hanno fatto la delugia. Ho detto quello che sto dicendo a voi. La realtà dei fatti. Sua moglie che era in macchina e ha visto questa scena, si è spaventata molto? Moltissimo. Perché poi c'era anche il bambino che gridava. E poi proprio ieri ho fatto 50 anni. E quello è stato il mio regalo. Un regalo bellissimo. Un regalo bellissimo.